we non fare il barbone da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xiodarone e bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video io sono xiodar e ragazzi li abbiamo visti già ieri e anche due giorni fa tutti i teaser incredibili oggi esce il terzo il primo teaser ragazzi lo vedete benissimo quello con i grandi magazzini e la xd fortnite ieri abbiamo visto invece il teaser con il robotone mosso dalla skin di del visit del visitors e oggi ragazzi eccolo qua incredibile tolgo l'overlay velocemente per farvelo vedere molto meglio eccolo qua ragazzi si possono notare il due stili molto particolari probabilmente quello di destra è alla deriva in versione malvagia quello di sinistra su due piedi non saprei dirvi che cos'è ma è tanta tanta roba secondo voi ragazzi cosa sta a significare questo teaser scrivetemelo qua nei commenti io vi ringrazio per avere guardato questo video noi siamo in live ciao 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 ciao